Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'incantevole scenario del grande fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno tessendo nuovamente i fili di un legame che sembrava perduto. Recentemente, Mirko ha sorpreso tutti con rivelazioni inaspettate, aprendo il cuore su vicende passate. La coppia, un tempo separata, ha rivissuto momenti chiave nella loro storia, tra cui il bacio con Greta Rossetti in una recente puntata, un gesto di riappacificazione che ha scosso il pubblico. Quel momento, avvenuto in diretta televisiva, ha segnato un punto di svolta per Mirko, allora in crisi con Greta. Brunetti, entrato nella casa durante un periodo di tensione con Rossetti, si è trovato faccia a faccia con lei in un contesto difficile, dopo un confronto televisivo tra Rossetti e Angelica Baraldi. Questo incontro, tuttavia, non ha scaldato il cuore di Brunetti, tanto che è stato necessario l'intervento di Alfonso Signorini per invitarlo alla riappacificazione. Il recente dialogo tra Brunetti e Vatiero ha però gettato nuova luce su quella situazione. Perla, con il suo tipico spirito ironico, ha portato alla luce un sospetto che molti fan condividevano, il bacio tra Mirko e Greta era forzato, una mossa poco sentita da parte di Brunetti, come lui stesso ha ammesso. L'ultima serata ha poi rivelato un'ulteriore evoluzione nella relazione tra Brunetti e Vatiero. La coppia, un tempo divisa, ha mostrato segni di un rinnovato affetto, condividendo momenti di intimità e complicità, sotto lo sguardo attento degli altri inquilini e del pubblico esterno. Di fronte a questo sviluppo, Rossetti ha deciso di prendere le distanze, dichiarando attraverso i social media la fine della sua relazione con Brunetti. I telespettatori sono in attesa di vedere come Brunetti reagirà a questa notizia nella prossima puntata. Nel frattempo, Greta Rossetti affronta sfide personali al di fuori della casa, tra cui la gestione delle critiche e la fine della sua relazione. Ha recentemente esortato i fan della coppia Perla-Brunetti a rispettare la sua decisione, e a lasciarla in pace, sottolineando il suo desiderio di vedere Brunetti felice, anche se non più al suo fianco. Che ne pensate? Ci sarà un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie